SONO PAPI YON Tu? Ora sei Simon Dice Ti aiuterò a diventare l'ipnotizzatore più potente in assoluto Tu in cambio aiuterai me quando verrà il momento Quindi abbiamo un accordo, Simon Dice? Simon Dice, sì! Simon Dice che il programma non è finito! Ma che cosa... Silenzio! Simon Dice che sei tonto! Tonto come una papera! Simon Dice... Fermo! Simon Dice che tu sei un gorilla! Marinette, guarda! Devo andare, Alia! Divertiti! Ora torno a fare la babysitter! Tiki, che cosa devo fare? Sono in punizione! Non hai altra scelta! Fatevi trasformarsi! Dobbiamo solo stare più attenti! Metti il cuscino sotto le lenzuola! Sembra che vada bene! Tiki, trasformami! Ha! 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 Entro la mezzanotte di oggi ci intratterrà in questo studio televisivo. Gabrielle, sto venendo a prenderti. Papà. È rischioso, ma mi ha fatto venire un'idea. Buona fortuna, Simon dice. Sanuar dice sta zitto e dammi quelle carte. Il mio gorilla si occuperà di te. Simon dice mettilo al tappeto. Non cado sempre in piedi, ma mi rialzo sempre. Mi serve un esercito. Simon dice siete tutti soldati. Simon dice cercate per tutta Parigi, mio esercito, e trovate Gabriella Grest. Devi stare attento. Il mio maestro di karate mi ha insegnato... che le dimensioni non... Ehi, stai bene? Sì, sto bene. Ma il mio amico Adrion è qui da qualche parte. Non preoccuparti, lo troveremo. Lascio il karate. Oh, ciao, Ladybug. Adesso basta. Cataclisma! Anche per me è bello vederti, Sanuar. Scusa, pensavo che fossi Simon, dice. Io l'ho visto. Ha messo insieme un intero esercito. Sembra che stia cercando Gabriella Grest. Faremo meglio a trovarlo prima di lui. Sanuar, stai per ritrasformarti. Io vado a cercare l'amico di Nino. Lascia perdere, forse è stato ipnotizzato. Ma è il mio amico. Hai ragione. Magari si è nascosto. Voi andate a cercarlo. Ci vediamo a casa di Gabriella Grest tra un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti.